La prendi tu, ce la fai? Trova, perché ho visto troppo e ho detto, quando è troppo è troppo. Bene, bene, sega tutto quello che deve essere segare fino a Bolli. Ascolta, va che io c'ho gente a mia altezza, anche più alti, che vengono di là. Va che si sparano anche, vieni qua, vieni qua, vieni qua a segare tutti, vieni a segare tutta sta merderia qua, alzati più che puoi. E' pieno qua, guarda, è pieno qua da me, è pieno, è pieno, è pieno, è pieno proprio qua, sopra di me, l'altra, sinistra, dappertutto. Confermiamo bene, confermiamo? Sì, sì. Eh, io non arrivo qui là della Lentina, però c'è uno davanti, davanti a me, guarda. Che va la Lentina, due. Quindi o mi estraete, o provo a prendere qualcosa su questo palazzo. Con la Lentina qua io. È pieno, è pieno, è pieno, o no, è pieno. È pieno. Mi ha entrato, è pieno, è pieno. Mi ha entrato, mi ha entrato il 5A, mi ha entrato. oltre a ferirci anche pieno c'è uno lì da da 6 kg ragazzi ti ho dato una mano ti ho dato una mano da una volta si si mi hai dato una mano per la gara si ho dato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una terra, una morte. C'è armi dentro, c'è armi dentro qua. Stai arrivando, stai arrivando. Stai arrivando. È lì. Bella, metta, 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 metta.